Buongiorno a tutti ragazzi, sono l'Atec e in questo video andremo a vedere in anteprima l'evento finale della season 3 capitolo 2 di Fortnite che appunto ci porterà a vedere appunto la nuova season mappa passa battaglia e un sacco di altre cose Ma ragazzi ovviamente prima di iniziare con il video in caso ancora non foste iscritti al canale vi invito ad iscrivervi attivando la campanella delle notifiche così che rimanete a giornare su tutti i video che sono all'interno del canale vai a lasciare un like per supportare il video e condividere con i fan e i temici se anche loro sapranno come devono fare per andare a ottenere ragazzi e vedere questo evento finale in anteprima ma ragazzi ovviamente vi ricordo che all'interno del negozio oggetti di Fortnite potete inserire il mio codice creatore leotech che si scade ogni 14 giorni quindi mi raccomando rinnovalo così quando andrete a comprare la bellissima skin starter e tutte le skin del negozio oggetti di oggi mi supporterai e te non cambierà assolutamente nulla quindi grazie mille se lo farai ma ragazzi andiamo appunto a vedere questo evento finale vi dico in anteprima che questa qua appunto è una mappa quindi mettiamo il codice isola ragazzi è questo qui, ve lo lascio sotto in descrizione ringrazio tantissimo Maestro Shark ho cercato una skin molto significativa per la storia di Fortnite quindi ho deciso bene di mettere la skin della dottoressa Sloane spero che questo evento finale sia all'altezza allora perfetto eccoci qui vediamo ok abbiamo tre armi ti ho, l'ho sentiato ti ho droppato alla base a Yoi nasconditi e cerca cosa, perché stanno scavando ok, io qua li ammazzerei ragazzi non so voi ma intanto io li ammazzerei sembrano un po' troppi eh sinceramente comunque pensate tipo l'evento finale oddio ragazzi questo mi apre mi apre proprio il tutto allora non posso costruire questa cosa mi da alquanto fastidio comunque smitragliettiamo ovviamente sì la vita sembra infinita si spera vero? perché noi non siamo forti per niente quindi vediamo no, non è infinita ok uno però è andato quello che mi preoccupa di più ragazzi è questo coso qua al centro mi sembra un po' troppo ok però con questa pompa ragazzi in effetti si risolvono parecchi problemi allora aspettate va quel paese oddio ragazzi quanto danno fa allora stanno scavando una cosa ok seguiamo la linea rossa nel dubbio comunque molto bello è fatto ragazzi questa parte qui è tipo sotto la caverna no vabbè comunque allora andiamo eh ah di qui addirittura va bene io appugno sempre una mitraietta perché ho una paura come se qualcuno andrà dietro assurda eh mi salio qualcun altro che prema eh no perate ragazzi ho capito cosa cosa devo fare qui ah forse devo fare così eh vediamo eh spero ne basti uno perché ci mettono davvero troppo ad aprire questi sti cosi comunque ragazzi allora eh ah te pareva Gesù Cristo oh e uno è morto god o demone vaffanculo tre te ragazzi non so che fare mi ammazzano tutti questi oddio ti prego dimmi almeno qua la vita infinita oddio ah devo sopravvivere i 40 secondi ancora please ragazzi ma io ho zero di vita tipo please puoi dare promettercela la vita però eh oh mio dio ragazzi sono tantissimi ah via 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 toglietevi via oddio 10 secondi please veloce fast devo sopravvivere altri sette sei cinque quattro tre due uno please sì allora ok io vado di qui eh ricerciamo le armi cos'è sta cosa cos'è ah devo seguire qui tipo eh teletrasporto cazzo faccio eh oh ragazzi che si fa ah ok si è aperta da sola perfetto allora andiamo un attimo a vedere qui ok ho paura braccio del mecia ok io continuo ragazzi eh ecco appunto me se stavo zitto eh ma devo salire sul braccio tipo oddio ragazzi non ci sto a capire più niente putta nebbia eh ok allora passiamo un attimo qua sotto potrebbe essere molto spiacevole il fondo della situa io salirei sul braccio eh non so voi però ok no invece no ragazzi ma cosa devo fare qui ragazzi 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 non so cosa fare oddio oddio ragazzi penso di essermi tipo glitchato male sì 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 mi sono calciato male no invece no no ragazzi sto a capire più niente è troppo complicato eh che cazzo devo fare è Sloan sono io Sloan oh sei atterrato giustamente nella nostra trappola no ragazzi c'ho tanta ma tanta di quella paura qui ragazzi non capisco eh now vedi la devastazione no ragazzi no ok ci sono riformato un po' le texture oh cacchio del divoratore oddio ragazzi io non mi muovo eh cos'è una detran ok musichina ragazzi non la sento la musichina neanche io con le cuffie quindi state tranquilli non vi state perdendo niente comunque ok continua qui misterioso molto misterioso il paradigma la bestia si sveglia oh mio dio ragazzi quanto ho fatto bene sta mappa incendi tanti incendi braccio dove si proiettano no ragazzi non so che fare oddio nuova arma il lanciarazzi why ragazzi io ho provato eh ragazzi no ho capito che sta succedendo comunque quanto ha fatto bene aspettate ok piove piove ragazzi piove 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 tipo tantissimo ah hai visto come stanno i suoi stati ah finito così devastazione sì ragazzi questo sì che era un bel evento a mio parere mi raccomando commenta qua foto se a te è piaciuto questo evento andiamo velocemente a vedere cosa c'è nello shop di oggi di interessante allora bene way home gente del caos azuki molto bella skin intriarther starter il rinnegato io vedo gli sweet che l'hanno appena comprato la skin striga surf da 1200 abbastanza carina piccone ascia vip ma ragazzi beh che dire il video può terminare qua ci vediamo con i prossimi video che ho all'interno del canale